Vuoi creare un video dalle tue clip e foto? Non sei sicuro di quale software scegliere? Inizia con Clipify, questo editor video facile da usare a tutti gli strumenti essenziali di cui hai bisogno per un montaggio perfetto. Vediamolo in azione. Iniziamo con un nuovo vuoto o scegliamo una delle caratteristiche più popolari. Creeremo un progetto da zero. Aggiungiamo video e foto. Se una clip è troppo lunga, puoi semplicemente tagliarla trascinandone il bordo sulla timeline. Inoltre puoi utilizzare lo strumento Taglia. Sposta i marcatori blu lungo la timeline per impostare la nuova durata del video. Se hai bisogno di essere molto preciso nel creare un video, usa i pulsanti qui sotto per scegliere l'immagine esattamente. Puoi anche inserire dei marcatori durante la riproduzione del video. Il comando Ritaglia è utile quando devi passare dalla visualizzazione da lontano a quella da vicino e viceversa. Dividi la clip in più parti, poi selezionane una e usa lo strumento Ritaglia. Come prima cosa, imposta le proporzioni originali, quindi regola l'inquadratura. Clicca su Salva per applicare le modifiche. Le tue clip sono troppo noiose? Migliorale in pochi clic. Scegli un video e premi Modifica. Vai alla scheda Immagine e regola le impostazioni. Aggiungi un po' di contrasto e di saturazione. Cambia la tonalità complessiva. Clipify può anche migliorare automaticamente l'aspetto dei tuoi video. Seleziona la scheda Miglioramento e metti la spunta sulle caselle per il miglioramento automatico. Per la correzione manuale utilizza Curve. Sposta la linea per ciascun canale per eliminare qualsiasi dominante di colore e migliorare la qualità del video. Clipify ti permette di controllare anche la velocità del video. Questo è utile se devi evidenziare o saltare determinati momenti. Basta trascinare il cursore per impostare la velocità desiderata. C'è una collezione integrata di oltre 30 filmati per ogni occasione. Basta trascinare la clip di sfondo sul progetto per aggiungerla automaticamente. Per completare la storia sovrapponi ai tuoi video le sovraimpressioni. Nella scheda Testo puoi scegliere lo stile, il tipo di carattere, il colore, aggiungere un bordo o un'ombreggiatura. Inoltre per le didascalie puoi impostare un effetto di dissolvenza in entrata o in uscita. Ogni film inizia con una clip titolo. Clipify offre decine di titoli predefiniti per blog di viaggio, per presentazioni ufficiali, video di matrimoni e per tanto altro. Basta scegliere un titolo e trascinarlo sulla timeline. Digitare il testo e il gioco è fatto. Utilizza stickers e clipart già pronti per abbellire le tue clip. Sistema la posizione e le dimensioni, poi aggiungi una didascalia. Per ottenere un filmato dall'aspetto curato, aggiungi transizioni diverse tra le clip. Se hai poco tempo, lascia che Clipify imposti transizioni casuali o applicane una a tutti i tuoi video. Se non sai come cambiare l'aspetto del tuo video, utilizza uno dei 160 effetti speciali. Per comodità sono divisi in diversi gruppi, popolare, bianco e nero, romantici, film, ecc. Regola l'intensità dell'effetto per renderlo più accurato. Infine, aggiungi una musica adatta. Puoi scegliere uno dei 200 brani senza diritti d'autore o caricare la tua musica. Clipify ti permette di curare attentamente il suono direttamente sulla timeline. Hai bisogno di disattivare la musica per far sentire la narrazione vocale? Clicca con il tasto destro sulla traccia musicale e aggiungi 4 punti audio. Sposta i punti centrali verso il basso per diminuire il volume del brano in quel punto. Ora cominciamo a creare il video. Ci sono oltre 30 formati disponibili, tra cui AVI, HD, DVD, per dispositivi mobili, social media e altri. Scegli il formato di cui hai bisogno e avvia il processo di conversione. Una volta terminato, puoi riprodurre il video creato o aprire la cartella del file. Che altro puoi fare con Clipify? Tagliare i video lunghi in diversi segmenti. Basta selezionare le parti di cui hai bisogno e scegliere il formato video desiderato. Sostituire lo sfondo utilizzando il Chrome Akey. Seleziona il tuo video con uno sfondo uniforme e aggiungi una clip con un nuovo sfondo. Puoi rimuovere, quindi regola la posizione della sovrapposizione. Con Clipify puoi anche registrare video dalla tua webcam e creare splendidi biglietti di auguri. Seleziona il tuo video, scegli un modello, aggiungi una didascalia appropriata e invialo alla persona giusta. Ora sai come creare un video. Scarica Clipify e inizia subito. Grazie.